Terremoto a Calabria oggi 27 agosto 2024 registrato nel mar Ionio precisamente a largo di questa magnifica regione ubicata a sud dell'Italia, 34 da profondità registrata, chilometri chiaramente, pensate che la scossa sarebbe stata di magnitudo 3.9. Ripeto oggi intorno alle 2 del pomeriggio quasi la 3, c'è stata questa scossa di terremoto che ha coinvolto il largo del mar Ionio. Sembra che diversi calabresi abbiano percepito il terremoto in questione. Se siete calabresi o comunque abitate in Calabria, ditemi se avete o no percepito il terremoto in questione. Io vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi dentro di Youtube. Mi raccomando iscrivetevi se vi va a commentare e una buona sera.